Buonasera, abbiamo un grande onore stasera due direttori. Mi sento un po' accerchiata, ma per presentare quest'ultimo libro di Maurizio Molinari che ha un titolo e un sottotitolo devo dire molto importanti, molto forti. Ci sono tre parole di rilevanza, di peso. Il primo è il campo di battaglia nel senso del nostro paese, il nostro paese come campo di battaglia. Il sottotitolo evoca invece un libro altrettanto bello che ha scritto questo Hopkirk che si intitola proprio Il grande gioco ed è un'analisi del complesso sistema, intricato sistema che regola gli equilibri intorno e dentro l'Afghanistan negli ultimi 200 anni. Ed è un libro che appunto ci spiega sostanzialmente quanto gli scenari politici e storici siano sempre più intricati e complessi di quello che vogliamo immaginare. Lo stesso fa quest'ultimo libro di Molinari perché ci mette anch'esso di fronte alla complessità della situazione che stiamo vivendo e che forse in ragione del fatto che eravamo tutti dentro questa tremenda emergenza e ci siamo in parte ancora abbiamo evitato di affrontare la complessità di questa situazione. Vedevamo le cose e le vediamo ancora molto in bianco e nero in quest'ultimo anno e mezzo. Quindi questo libro è al tempo stesso un'analisi approfondita e molto molto acuta dell'ultimo anno e mezzo, lo scacchiere mondiale dentro questa epidemia. È una sorta di anamnesi e di diagnosi del presente ma soprattutto del futuro più prossimo che ci aspetta. Io avrei sostanzialmente tre temi, tre domande da porre e le pongo a tutte e due perché poi io mi chiamo indietro e sarete voi a dialogare. La prima questione è davvero come è possibile, come è ragionevole pensare che di fronte a tutto quello che abbiamo perso, che il mondo ha perso in quest'anno e mezzo, questo dramma della pandemia, si possano intravedere delle grandiose prospettive di crescita, di sviluppo, di cambiamento, di ottimismo sostanzialmente. Come funziona questo meccanismo che peraltro ha dei precedenti, sto pensando al piano Marshall, per cui dalla perdita, dal buco nero, del dramma collettivo universale e in particolare nel nostro paese si arrivi a pensare a un futuro promettente. Grazie Elena, grazie a tutti voi, grazie a Massimo Genini di essere qui con noi. La domanda che tu opponi è una domanda centrale nella struttura del libro. La realtà che noi sappiamo in questo momento l'Italia è diventata un paese cruciale per il successo del recovery plan del Next Generation EU in Europa, in quanto noi prendiamo la gran parte, la parte maggiore degli aiuti. Se noi avremo successo, il piano avrà successo. E il punto è che questa affermazione economica può avvenire se si lega alla sconfitta della pandemia. La realtà vera è che i progressi che l'Italia sta dimostrando di saper fare nella vaccinazione e nella sfida alla pandemia, grazie alla leadership del Presidente del Consiglio e della sua scelta di affidare al Generale Figliuolo questa operazione, che all'inizio del suo mandato sembrava molto difficile e complessa, i due percorsi si sommano. Cioè, da una parte la sfida alla pandemia e dall'altra la sfida alla ricostruzione, entrambe passano per il nostro paese e se noi avremo successo l'impatto sull'Europa sarà inevitabilmente sensibile. Questo però naturalmente ci dà anche grande responsabilità, perché se dovessimo fallire l'Europa guarderà a noi, naturalmente noi dovremmo assumercene la responsabilità. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie a Maurizio e ad Elena. Devo dirvi che questo secondo me è il saggio più interessante che ho letto di Maurizio fino adesso e i prossimi lo saranno realisticamente ancora di più, ma insomma questo l'ho trovato particolarmente puntuale perché riflette uno stato d'animo che noi tutti avvertiamo, non solo nel nostro paese, rispondo così anche subito alla tua domanda Elena, ma anche rispetto alla comunità internazionale. Perché per una strana congiunzione astrale è vero che in questo momento vediamo tutti che esiste un momento Italia, possiamo definirlo così. Un momento Italia che nasce, come è spesso successo nella nostra storia, e ha ragione Elena a ricordare il piano Marshall in un momento particolarmente drammatico, perché se vogliamo è un po' il nostro destino, il nostro destino di nazione irrisolta, quello di riuscire a dare il meglio di noi stessi soprattutto nelle situazioni più drammatiche. Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, Next Generation U, con tutto quello che comporta e con tutto quello che giustamente Maurizio sottolinea in questo libro, subito dopo la più grave pandemia da molti decenni a questa parte. E anche in questo momento l'Italia quindi, come già accade allora, fumo aiutati in maniera straordinaria dagli americani in quella situazione. Oggi lo siamo dall'Unione Europea che per la prima volta, in ragione di questa emergenza pandemica, è riuscito a fare quello che non era mai riuscito a fare nei decenni precedenti, da quando era nato l'euro, e cioè mettere in condivisione una parte di debito. Ancora non siamo agli euro bond, ma insomma Next Generation U rispetto alla storia europea è davvero una grande svolta. e i fondi noi li attingeremo lì. Non saranno tutti prestiti, saranno in parte prestiti, in parte a fondo perduto, ma naturalmente è un'occasione straordinaria che quindi proietta perciò stesso l'Italia al centro del grande gioco, comunque come una delle componenti essenziali di questo grande gioco. Oltretutto aggiungo a questo aspetto un'altra congiunzione astrale che è duplice, la vedo per ora solo dal punto di vista internazionale e poi credo che avremo modo di parlare anche invece dei problemi che riguardano il nostro paese. Cioè l'Italia che per molti anni dall'avvio dell'Unione Monetaria in poi è stata vissuta e considerata come il problema dell'Europa, la grande malata d'Europa, oggi viceversa un po' per gli sforzi che abbiamo fatto come comunità nazionale, anche in presenza appunto dell'emergenza pandemica, un po' perché la guida, una delle personalità più prestigiose e autorevoli che non solo l'Italia ma l'intera comunità internazionale ha imparato a conoscere, Mario Draghi, può essere dunque, la diciamo con un po' di enfasi, levatrice di questa fase storica. È vero, può esserlo, beneficiando appunto dell'altra congiunzione astrale che dicevo, cioè del vuoto di leadership che in Europa fatalmente si sta creando, lo stiamo già vedendo, anche se poi la Germania, sappiamo, è paese nel quale i governi possono avvicendarsi ma alla fine quello che conta è quella che loro chiamano la culture der stabilität, io poi non so se l'ho pronunciato bene ma insomma la cultura della stabilità, quindi possono cambiare i cancellieri o le cancelliere ma la Germania resta sempre quella. Tuttavia non c'è dubbio che la Kanzlerin, Mutti come la chiamavano, Angela Merkel lascia un gigantesco vuoto in Europa che Macron da solo non saprà colmare anche perché tra un anno anche lui avrà le sue presidenziali e quindi l'Italia con Mario Draghi ha da giocarsi una chance molto importante per far vedere forse per la prima volta o forse per una delle poche volte nella sua storia di essere all'altezza della sfida e di fare finalmente questo grande salto dal punto di vista della maturazione sia come nazione sia come popolo. Quindi il momento Italia è questo secondo me e la pandemia, lo citavo nell'ultimo editoriale che ho fatto, scusatemi se mi autocito, come ha detto Papa Francesco, peggio del Covid c'è solo l'errore di sprecarlo. Ecco, l'Italia ha la grande opportunità di non sprecarlo e se ci riesce di acquistare un ruolo straordinario che forse appunto per queste coincidenze di cui stiamo parlando non ha mai avuto né a livello europeo né a livello internazionale. Maurizio, ci stiamo avviando o dobbiamo tutti auspicare e incrociare le ditta nella prospettiva di una repubblica presidenziale? Questa è la domanda. Allora, andiamo per i gradi. La sintesi di Massimo Giannini è molto efficace. Siamo in un momento Italia, un momento Italia che si respira chiaramente a Bruxelles, nelle capitali europee, un po' tutti guardano a noi, che si respira a Washington, quando c'è stato il G20, la sintonia fra Biden e Draghi è stata veramente unica anche nelle relazioni bilaterali. Il linguaggio che Draghi usa è lo stesso linguaggio che usa Biden. Adesso che siamo in una fase delicata sull'Ucraina, la Bosnia, l'Italia di nuovo è un interlocutore privilegiato degli americani. Si tratterà di scegliere il segretario generale della Nato in primavera. L'Italia, assieme alla Gran Bretagna, è una delle nazioni che può legittimamente aspirare a questo. C'è il momento Italia. E devo dire che chi per noi ha fatto i giornalisti per molti anni, forse mai come in questo momento, vediamo che gli occhi sono su di noi e lo sono in maniera genuina. Cioè c'è davvero interesse per quello che noi facciamo e per l'impatto che può avere. Ma attenzione, oltre all'interesse c'è anche la preoccupazione. Perché la preoccupazione? La preoccupazione è che tutto questo possa improvvisamente sfinire. finire D'Amblè, fra 40 giorni, per effetto impatto di un voto del Parlamento sul Capo dello Stato, che potrebbe innescare un domino di eventi capace da far finire il momento Italia. Questa è la grande preoccupazione che si respira in Europa. Il punto è, c'è una narrazione che dice, ma in realtà questo, se Draghi andrà al Quirinale, non sarà vero, perché Draghi porterà con sé la sua grande autorità, con tale autorità rafforzerà quelli che già sono i poteri del Presidente della Repubblica e di conseguenza potrà in qualche maniera indirizzare l'operato del Governo fino appunto a tratteggiare lo scenario di un semi-presidenzialismo italiano. Io credo che questo sia uno scenario che suscita molti interrogativi, molte perplessità, se non altro perché prima si fanno le riforme e poi si nominano gli uomini. Non è che uno prima nomina gli uomini e poi fa le riforme. Il fatto stesso che ci sia questa discussione significa che c'è un vulnus nella nostra maniera di pensare. Io credo che l'equilibrio che c'è in questo momento fra il Quirinale e Palazzo Chigi è un equilibrio sano garantito dalla nostra Costituzione che obiettivamente ha dimostrato in un momento difficile come quello seguente alle elezioni del 2018 di poter dare al Capo dello Stato dei poteri importanti per accompagnare il Paese in una transizione non facile da una vittoria politica che ha premiato i partiti dalla protesta fino appunto a dare gli stessi poteri a Draghi che in una situazione di doppia emergenza è riuscito, come dicevamo prima, a tirare fuori il Paese dalla palute. Io sinceramente temo proprio invece che torni la palute. questa è la mia grande preoccupazione e cioè un Parlamento dove il gruppo misto non è mai stato così grande i partiti non siano mai stati così deboli i deputati e senatori rispondono non solo ai loro legittimi leader politici ma anche a tutta una serie di capi bastone molti dei quali sconosciuti alla maggioranza dei cittadini di questo Paese in realtà il vero rischio che invece di andare verso una Repubblica presidenziale veniamo risucchiati in una palude della politica che può indebolire nello spazio di un mattino tutto quello che è stato fatto negli ultimi mesi. Beh Elena, ci hai trascinato già nel gorgo della politica italiana io pensavo che dovessimo volare a altre Isis Corasan, la Libia, tutte cose interessantissime, importantissime che giustamente Maurizio affronta è una battuta no è che se cominciamo a parlare della politica italiana non ci fermiamo più andiamo avanti chissà per quanto tempo no in realtà è evidente che per le cose che abbiamo già detto finora quando parliamo di Momento Italia e lo leghiamo come è chiaro a tutti noi alla presenza di uno statista che ha maturato la sua esperienza in anni e anni di lavoro al servizio prima delle istituzioni ministeriali diciamo così no? Io ricordo ancora che nei primi anni 90 quando partì il grande piano di privatizzazione del governo Amato sulle ceneri di Tangentopoli Mario Draghi era stato da pochissimo nominato direttore generale del Tesoro non lo conosceva ancora nessuno ma Giuliano Amato e poi Carlo Azzeglio Ciampi nel 93 gli affidò il grande piano di privatizzazioni che smantellò tutte le partecipazioni statali che conoscemmo nei decenni precedenti e uscì la prima copertina di Business Week che immortalava Mario Draghi e lo definiva l'uomo più potente d'Italia in quel momento nessuno sapeva neanche che esistesse Mario Draghi lo dico per dire che di strada quest'uomo ne ha fatta veramente tanta ha iniziato allora da direttore generale del Ministero del Tesoro e poi ha fatto il governatore della Banca d'Italia poi per otto anni è stato presidente della Banca Centrale Europea ha messo in riga Sarkozy piuttosto che la stessa Merkel ma più che la Merkel diciamo i membri falchi del board della Banca Centrale Europea incarnati in quel momento soprattutto dai paesi nordici Weidmann il governatore della Bundesbank e poi il governatore della Banca Centrale Olandese tutti quelli che hanno sempre guardato all'Italia con gli occhi di cui parlavamo prima cioè il pre-Covid e il pre-Draghi cioè come la grande malata d'Europa e adesso appunto ovviamente Draghi da presidente del Consiglio dopo aver trattato con Merkel Sarkozy poi Macron poi Wimcock insomma tutto l'establishment del pianeta Ivi compresi i presidenti americani o il presidente della Federal Reserve perché questo fa il presidente della Banca Centrale Europea e sta lì a litigare con Salvini con qualche volta Correnzi insomma le beghe della politica italiana però meno male che Draghi c'è perché comunque già in questo poco tempo è riuscito a rendere possibile il momento Italia di cui stiamo parlando quindi è chiaro che per poter essere colta questa grande opportunità noi non dobbiamo correre rischi di potersi giocare la figura di Mario Draghi cosa che invece purtroppo io vedo che abbiamo già cominciato a fare lo dico perché insomma i partiti allo sbando che non purtroppo mentre il popolo italiano ha dato prova al di là di alcune residuali intemperanze lo voglio dire perché anche questo nostro incubo dei Novax eccetera insomma sono davvero una minoranza per quanto rumorosa ma una minoranza e quindi non li enfatizziamo troppo ma comunque io direi che nel complesso il popolo italiano in questa circostanza ha dato una prova straordinaria straordinaria e ha colto l'occasione ecco ha colto l'occasione di dimostrare che noi siamo capaci di rispettare le regole e di rispettarci gli uni con gli altri e ne è la prova anche qui rifacendoci alla comunità internazionale il fatto che Angela Merkel nella cerimonia nella cerimonia tedesca di saluto e di commiato rispetto al suo cancellierato ha detto esplicitamente se io vivessi in Italia ora mi sentirei più sicura incredibile se vi ricordate l'iconografia italiana per il tedesco medio era la copertina di Der Spiegel il piatto di spaghetti con la pistola sopra no? nella peggiore delle ipotesi nella migliore appunto spaghetti e mandolino ecco adesso la più grande cancelliera tedesca dopo Adenauer dice che se vivesse in Italia si sentirebbe meglio quindi il momento c'è ma il momento è anche Mario Draghi ed è evidente che il ruolo che Mario Draghi ricopre o ricoprirà fa una differenza perché per quanto la salita al colle più alto sia comunque un coronamento di uno straordinario cursus honorum dal punto di vista suo personale ma anche dal punto di vista dell'immagine del paese perché è la miglior riserva della Repubblica che abbiamo oggi e il fatto che diventi capo dello Stato è una bella cosa per noi anche dal punto di vista dell'immagine però però è anche vero e qui mi riallaccio a quello che diceva Maurizio a proposito del rischio palude è anche vero che un governo del paese senza Mario Draghi oggi con questi partiti che al contrario del popolo italiano l'attimo non l'hanno colto perché c'è stato tempo per riorganizzare il campo politico ma non è stato fatto tutto quello che abbiamo conosciuto negli anni passati in definitiva sta continuando i poli non si riaggregano o lo fanno comunque in condizioni di conflittualità permanente nuove leadership non se ne vedono insomma la crisi di sistema che ha reso possibile la premiership di Mario Draghi in questo anno e passa non è stata risolta e quindi chi può essere garante del caos se Draghi passa al Quirinale perché è ovvio che ha usato una formula secondo me molto efficace del Romano Prodi ha detto Mario Draghi deve scegliere e quindi anche l'Italia deve scegliere sette anni di autorità oppure ancora un anno di potere autorità e potere sono due cose molto diverse l'autorità è una cosa formidabile per un sistema paese ne abbiamo bisogno ma il potere poi è chi fa le cose e allora la PUR io non la definisco auspicabile perché io spero personalmente che Draghi continui a governare il paese perché la missione non è compiuta non è compiuta ma comunque se come forse anche lui desidera perché finora non ha dato indicazioni di senso contrario sarebbe contento di salire sul colle più alto e beh il passaggio successivo a me preoccupa moltissimo invece non che noi si sia proprio del tutto sguarniti di classi dirigenti dignitose e anche capaci il problema è il miscuglio o se volessimo essere un po' più spregiativi la cozzaglia cioè che cosa produce la cozzaglia se non c'è più Mario Draghi a fare da garante a me questo preoccupa moltissimo e aggiungo e concludo in un paese normale in Italia purtroppo ancora non lo è benché abbia fatto dei grandi passi avanti in un paese normale se uno governa bene governa stai governando bene governi un presidente della repubblica all'altezza anche se non sarà Mario Draghi io penso che con un po' di sforzo riusciamo a trovarlo o dovremmo riuscire a trovarlo però è un'incognita tutta da decifrare non sappiamo come andrà ed è questo il motivo per cui sono ancora più preoccupato perché in tutto questo quello che davvero manca è che invece ci fu quando per esempio in circostanze analoghe sia pure senza avere in campo la pandemia e leggemmo e l'essero diciamo e leggemmo come paese Carlo Azzeglio Ciampi al primo voto ecco quello che allora ci fu e oggi manca è la regia in questo momento non si vede una regia cioè i leader dei partiti non sembrano capaci e non ci provano nemmeno allo stato attuale e non manca guardate tanto tra 40 giorni si elegge ecco non sembrano capaci di mettersi seduti intorno a un tavolo e dirsi tra loro bene è Draghi? ok se è Draghi che cosa succede al governo? andiamo a votare? non andiamo a votare? se non andiamo a votare abbiamo un candidato premier che non sia all'altezza stessa di Draghi ma che ci garantisca rispetto alla cozzaglia di prima? bene oppure non è Draghi scegliamo un identikit anzi scegliamo prima un metodo poi scegliamo un identikit e poi facciamo in modo di trovare una persona fisica che corrisponda all'identikit e che soddisfi il metodo ecco tutto questo io ancora non lo vedo e quindi sono molto preoccupato per cui il momento Italia rischiamo di giocarcelo così ecco potrebbero i giornali pensare loro a fare questo bell'identikit fare un bel appello fare un elenco di persone tirar fuori un po' di nomi così magari ma ne girano tanti di nomi ma appunto ma farlo già sono finite nel frullatore metodico uomini e donne uomini e donne certamente Massimo a un certo punto ha usato la parola regia che uso io per come dire tornare per un verso al libro e allargare un po' la prospettiva su quale è la regia di questi equilibri e di questo grande gioco di cui parla Maurizio nel libro e cioè la prospettiva è sempre molto ampia non è la politica della palude ma ci sono degli equilibri internazionali che sono in gioco e che tu ci racconti in questo libro sì il campo di battaglia è duplice c'è un campo di battaglia interno che è quello di cui fino ad adesso abbiamo parlato con l'Italia cruciale nell'esito della lotta alla pandemia e per la ricostruzione economica e in realtà anche terreno di battaglia campo di battaglia decisivo per la sorte probabilmente del populismo in Europa se non altro perché è il paese dove le forze della protesta in Europa occidentale hanno ottenuto il risultato parlamentare più importante nel 2018 conquistando la maggioranza dei seggi con la somma della Lega e dei Cinque Stelle però in realtà c'è anche una dimensione internazionale di questo grande gioco dovuto al fatto che le cronache degli ultimi tre anni ci dicono quanto l'indebolimento politico seguito al voto del 2018 e la precarietà delle coalizioni che hanno governato il nostro paese fino all'arrivo di Draghi hanno offerto ai paesi rivali dell'Occidente l'opportunità di vedere nel nostro paese una pedina di un possibile indebolimento delle due grandi alleanze occidentali che sono l'Unione Europea e la Nato i grandi rivali dell'Occidente sono la Cina e la Russia che hanno legittimamente l'aspirazione di modificare l'equilibrio internazionale uscito dalla guerra fredda a loro favore come si modifica questo equilibrio internazionale a loro favore con strategie molto differenti nel caso della Cina e la realizzazione della nuova via della seta con queste grandi infrastrutture marittime terrestri sostanzialmente per trasformare i ricchi mercati dell'Europa centrale come sbocco dei loro beni e servizi prodotti nella madrepatria nella grande nazione cinese quindi per fare questo naturalmente serve a una maggiore più consistente presenza economica e politica cinese nel Mediterraneo e in Europa e in questo la Cina ha identificato il nostro paese come un paese molto più efficace e efficiente per la realizzazione delle vie della seta ad esempio della Grecia per un motivo molto semplice che acquistare fisicamente il territorio dove si trova il porto del Pireo non ha garantito questo trampolino verso l'Europa centrale alle merci cinesi perché poi si sono accorti perché le ferrovie nei Balcani non sono sufficientemente efficaci mentre invece avere la possibilità di insediarsi in Italia a Trieste a Genova a Taranto riuscendo in qualche maniera a creare dei propri punti di riferimento strategici nel nostro paese potrebbe dare alla via della seta ben altra prospettiva di insediamento il tutto naturalmente accompagnato da uno sviluppo di nuove tecnologie come abbiamo visto nel caso dei 5G considerate dai paesi occidentali capaci di mettere a rischio il controllo e la gestione dei propri dati quindi diciamo c'è una grande offensiva economica cinese e poi invece c'è un'offensiva russa più tradizionale più ottocentesca più novecentesca che si basa invece sulla propria proiezione strategica la Russia ha invaso la Crimea nel 2014 è intervenuta militarmente in Siria nel 2015 si è insediata in Libia nel 2017 ha una presenza militare nel Mediterraneo oramai superiore a quella che aveva l'Unione Sovietica l'Unione Sovietica non ha mai avuto basi in Libia mai l'ha sempre aspirata Gheddafi non gliela mai date oggi la Russia ha delle proprie basi militari in Libia in questo rafforzamento della proiezione russa nel Mediterraneo è chiaro che questo significa proiettarsi sulle basi NATO che sono nel nostro paese e quindi avere un interesse strategico a una maggiore instabilità del nostro paese perché nella misura in cui il nostro paese è instabile naturalmente la Russia avrebbe la possibilità di difendere meglio i propri interessi nel Mediterraneo e più in generale in Europa all'interno di una politica di più ampio respiro che l'Unione Europea e la NATO più volte hanno individuato come il tentativo di portare scompiglio in tutti i paesi democratici a cominciare dagli Stati Uniti tentando di favorire grazie a un uso molto efficace e molto sofisticato delle nuove tecnologie delle comunicazioni digitali tutte quelle forze politiche capaci appunto di creare instabilità e scompiglio nei singoli paesi sappiamo che il governo spagnolo ha imputato ad attori russi attori russi perché si trovano fisicamente in Russia la gestione del gran parte dei troll indipendentisti catalani sappiamo che il governo inglese ha fatto la stessa storia con ha sollevato gli stessi sospetti nei confronti di attori russi con i troll che hanno sostenuto la campagna della Brexit sappiamo che la Merkel ha sollevato lo stesso sospetto nei confronti del boom di successi e di favori dell'estrema destra tedesca nel suo paese insomma il punto vero è che c'è stata un po' la convinzione e l'impressione che tanto la Russia quanto la Cina in strategie molto diverse e assolutamente non coordinate fra loro ma avessero in qualche maniera interesse aggiovarsi di una instabilità di uno scompiglio politico nell'Italia in preda ai partiti della protesta per riuscire ad avvantaggiare le proprie strategie di penetrazione economica e di indebolimento dell'Occidente tutto questo la realtà vera è che si è avuto un giorno di fine quando è arrivato Draghi a Palazzo Chigi questa è la realtà vera perché più o meno vere che siano state queste ricostruzioni ma in realtà come sappiamo i governi europei e l'amministrazione Biden le avvalorano molto da quando Draghi è arrivato i segnali che lui ha mandato alla Cina e alla Russia sono stati molto chiari e molto eloquenti c'è rispetto c'è volontà di avere relazioni proficue tanto con Mosca quanto con Berlino ma resta la priorità dei rapporti strategici dell'Italia tanto con l'Unione Europea che con la Nato questo significa appunto essere il campo di battaglia di un tentativo più generale di sfruttare il Mediterraneo per ridisegnare gli equilibri globali e di nuovo però stiamo a Draghi in questo momento il ruolo dell'Italia come parte e tassello strategico delle eleganze occidentali in questo momento si lega di nuovo alla figura di Mario Draghi sì Elena così abbiamo fatto spassami dalla battuta ma è stato un po' un coitus interruptus perché stavamo parlando di Quirinale pensavo che adesso arrivassimo a fare un po' di nomi Berlusconi eccetera invece invece no adesso siamo passati al grande scacchiere internazionale che pure adesso al di là delle battute mi avevi sgridato tu ma no ma sto scherzando ma ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro anche se due parole sui nomi mi interessava sentirli ma comunque ma ti interessava dropping i nomi o ascoltarli cosa facciamo una consultazione tutte e due no fammi dire solo una cosa poi rispondo invece alla questione geostrategica che ovviamente magari noi le viviamo meno sulla nostra pelle ma sono infinitamente più importanti per i destini del pianeta io penso che se non sarà Draghi Presidente della Repubblica o se lo sarà alternativamente non vedo cos'altro debba accadere perché una donna non possa fare o la Presidente della Repubblica o la Presidente del Consiglio cioè veramente siamo rimasti uno degli ultimi degli ultimi paesi in cui tutto questo non è accaduto e non accade francamente il Nord Europa ormai saldamente nelle mani delle donne diciamolo diciamolo chiaramente ma anche il continente asiatico o quello africano è possibile che noi stiamo qui ogni volta quando ipotizzi la donna mi ricordo sempre Giuliano Amato prima di Ciampi coniò la formula il coleottero io vorrei un coleottero al Quirinale dove il coleottero era la donna perché la donna fa lo stesso effetto del coleottero in questo paese il che è all'epoca però oggi rischia di essere vero di nuovo no? ecco allora una donna ecco voglio dire solo queste due cose una donna secondo me sarebbe maturo il paese per farlo chi invece io non vedrei al Quirinale scusatemi ma è Silvio Berlusconi lo so vi dispiacerà ma fin lì non ci arrivo ecco abbiamo riabilitato tutti però insomma lui ha scontato la sua pena lo ha fatto diligentemente però insomma io penso che per ricoprire un ruolo importante come quello anche sulla base del dettato costituzionale occorre aver servito la Repubblica con dignità e onore e lui non sempre l'ha fatto quindi abbiamo altre figure che secondo me potrebbero farlo volevo dire solo queste due cose poi adesso torniamo alla geostrategia totalmente autocitando me lo so non bisogna farlo però autocitati abbiamo pubblicato questa cosetta che si intitola libertà vigilata non siamo più con le otteri questo no però le donne sono ancora in libertà un po' vigilata insomma guardate sempre un po' come un'anomalia hai ragione per me è vero per me è così se Maurizio vuol dire qualcosa su questo poi ritorniamo questo è stato uno dei dei grandi temi sui quali insomma prima la stampa della Repubblica ci siamo confrontati c'è un ritardo culturale profondo nel nostro paese su questo che io credo che abbia a che vedere con l'equilibrio di ruoli che c'è dentro la struttura familiare perché noi siamo una democrazia come le altre democrazie le altre democrazie hanno fatto questi passi più avanti prima di noi e in realtà che chi vive all'estero come a me è successo quando torna nel nostro paese si accorge che il vulnus è come le donne in questo paese vengono trattate la narrativa pubblica che circonda le donne è una narrativa molto spesso offensiva il punto però è che secondo il mio paese uno se ne accorge e quindi si chiede la genesi di tutto questo e credo che appunto la genesi sia nella divisione di responsabilità dentro i nuclei familiari nel fatto che questa discussione su quello che avviene nelle famiglie non c'è e la politica riflette tutto questo e riflette questo ritardo all'interno dei partiti nelle loro espressioni diciamo di primissimo piano esattamente per questo è giusto fare come fa Massimo alla stampa come facciamo noi alla Repubblica una battaglia su questi temi che sono in realtà temi che appartengono a tutti per il motivo molto semplice che quando uno rafforza i diritti delle donne in una società rafforza anche i diritti degli uomini quando uno rafforza i diritti degli eteri rafforza anche i diritti dei gay e viceversa in una democrazia più diritti uno riesce a identificare e a rafforzare a consolidare più la democrazia nel suo complesso cresce nel caso specifico e concludo su questo tema così strategico importante perché i diritti delle donne sono quelli più importanti perché riguardano il 51% dei cittadini sì non c'è dubbio è una questione di costume di famiglia di tradizione sono tutte cose delle quali fatichiamo a liberarci piccola postilla su questo non capisco per quale ragione persino nel marketing se voi vedete le pubblicità in televisione insomma adesso qualcosa è un po' cambiato ma è sempre la donna che ha i fornelli a cucinare o a comprare i detersivi come succedeva 30 anni fa ma in 30 anni è tutto cambiato oppure quasi sempre scusate sarò brutale è molto spesso la donna avere perdite urinarie perché in ascensore solo le donne hanno le perdite urinarie scusate la volgare franchezza adesso anche l'uomo qualche problema è di prostata ogni tanto si vede era ora viva Dio era ora è tutto sotto te esatto è vero però guardate adesso ci scherziamo no? però questi casi questi episodi sono esattamente l'indice di quello che stavamo dicendo c'è una forma mentis che fatichiamo a scardinare ma è ora che lo facciamo santo cielo beh chiusa chiusa questa parentesi no volevo tornare invece alla precedente domanda sul profilo internazionale e sul grande gioco internazionale nel quale l'Italia può incidere che è il nucleo duro del saggio di Maurizio che ho trovato appunto davvero molto molto puntuale sulle due questioni fondamentali una è l'Europa e l'abbiamo già più o meno accennata no un vuoto di leadership che oggi l'Italia anche sul piano del suo quadro dirigente più importante può rappresentare poi c'è però tutto l'altro fronte che riguarda da un lato il Mediterraneo e dall'altro lato la nuova guerra fredda o quel qualcosa che un po' ci somiglia e lì davvero non si tratta nemmeno di recuperare un ruolo per quanto con la prima repubblica ecco se parliamo del Mediterraneo lì un ruolo ce l'avevamo però era un ruolo diciamo un po' ambiguo diciamo in fondo l'andreottismo rispetto a tutto il mondo arabo aveva un po' questa cifra qua l'Europa un ruolo l'Italia un ruolo lo giocava ma non capivi mai in fondo qual era per l'abilità anche diciamo negoziale di Andreotti per carità dopodiché ci siamo eclissati per una fase molto 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 lunga c'è stata la Libia sappiamo il disastro che è stato l'abbattimento sia pur non legittimo ma comprensibile perché comunque Gheddafi era un tiranno ma abbattere il tiranno senza pensare a quello che sarebbe successo dopo abbiamo visto in che disastro ci ha precipitato e l'Occidente purtroppo questi errori li ha fatti abbastanza spesso perché potremmo adattare il ragionamento che stiamo facendo alla Libia anche volendo all'Iraq e all'Afghanistan dove pure di nuovo la costruzione di uno Stato è palesemente fallita con la fuga purtroppo indecorosa dell'esercito americano e al suo seguito di tutti gli eserciti Nato sostanzialmente ecco quindi lì davvero dobbiamo non già recuperare ma costruire qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a quale l'Italia non ha mai avuto un peso vero e proprio però adesso c'è un'opportunità anche lì c'è un'opportunità perché anche lì come in Europa assistiamo a un vuoto e il vuoto in politica interna come in politica estera come nella fisica dei corpi tende ad essere riempito chi riempie i vuoti oggi nel Mediterraneo e beh Maurizio lo scrive lo stiamo vedendo ci stanno provando se non le dittature comunque le autarchie ci sta provando la Russia di Putin ci sta provando la Turchia di Erdogan che si sono spartiti la Libia e che stanno costruendo sfere di influenza anche appunto in Afghanistan in Siria l'abbiamo già visto questo fenomeno e questo naturalmente ci deve preoccupare e lì l'Italia da sola per quanto possa fare non riesce c'è bisogno di Occidente qui ecco questo è il vero punto c'è bisogno di Occidente quindi c'è bisogno di Italia senz'altro ma c'è bisogno di Europa c'è bisogno di alleanza atlantica qui sì l'Italia gioca un ruolo importante anche in termini di ricuscitura di relazioni che in questi ultimi anni si erano sfilacciate in ragione della vittoria dei populisti in Italia abbiamo visto abbiamo avuto col governo Conte 1 una sbandata piuttosto inquietante nei confronti della Cina e nei confronti della Russia tant'è che abbiamo faticato a ritessere la relazione transatlantica che oggi invece appare così importante per noi anche lì la figura di Draghi è stata essenziale insieme a lui è stata essenziale quella di Mattarella che ha dovuto ricuscire non solo con oltreoceano ma anche in Europa tanto per dirla facile avevamo rotto persino con la Francia eravamo andati a soccorrere i loro gile gialli invece di aiutare il governo legittimo della Repubblica nostra cugina e lì Mattarella ci ha dovuto mettere una pezza quindi insomma adesso abbiamo un po' recuperato però davvero quando andiamo su questi terreni ripeto Mediterraneo nuova guerra fredda rapporti con la Cina e lì davvero l'Occidente deve giocare un ruolo essenziale che purtroppo devo dire anche a prescindere dalla straordinaria buona volontà che Draghi ci ha messo negli ultimi vertici insomma non ha dato una gran prova il G20 insomma non è che sia stato proprio questo gran successo che speravamo perché perché purtroppo comunque il necessario e benedetto rilancio del multilateralismo che Draghi ha fatto suo e che buona parte della comunità internazionale occidentale a parole dice di sposare poi nei fatti quando si scende sugli interessi l'abbiamo visto sul clima lo vedremo sul digitale secondo me molto presto lo stiamo vedendo drammaticamente sul fronte energetico ecco quando si scende su quel terreno sì il multilateralismo è un bel principio ma si ferma lì quindi ecco rispetto al momento Italia e alle sette opportunità che Maurizio mette in evidenza io mi permetto di sottolineare queste incognite cioè il percorso è quello dobbiamo perseguirlo con tenacia però dobbiamo anche sapere e lo stiamo vedendo che poi andiamo a sbattere molto spesso contro interessi nazionali che continuano a prevalere sulle logiche multilaterali e quindi si procede per stop and go però questo non deve ovviamente indurci ad esistere anzi grazie Massimo ecco con questo tuo intervento mi porti come dire a invitare ma penso che vi siate convinti di quanto sia importante leggere questo libro per capire il mondo di oggi quello di domani per capire il nostro paese ma anche e con questa diciamo con questa sollicitazione penso che possiamo concludere questa presentazione anche questa città perché Massimo stesso ha evocato dei termini degli ambiti che in qualche modo ci riguardano da vicino io credo che Maurizio abbia da raccontarci sia in questo libro sia in quello che ci dirà cose molto interessanti sul destino di questa città e la sua capacità o la difficoltà di affrontare le trasformazioni che ci aspettano cosa ci racconti su Torino diciamo questa è una mia città di adozione alla quale mi sento costantemente sempre molto legato c'è un elemento credo che segna questa stagione di potenziale sviluppo e crescita economica nel nostro paese che ha a che vedere con il DNA di Torino e credo che questo elemento sia la capacità di innovare la capacità di creare Torino è una città dove le cose si fanno si creano si inventano poi altre città altre realtà italiane magari le portano avanti in maniera più efficace però questo è il posto dove storicamente in alcuni momenti importanti della storia italiana sono state create delle realtà culturali scientifiche meccaniche politiche che hanno fatto la storia del nostro paese io credo che poiché al centro delle attuali trasformazioni economiche c'è l'innovazione la trasformazione energetica la transizione ecologica tutto questo passa attraverso l'innovazione cioè la scoperta di nuove tecnologie di nuove metodologie di operare di nuovi sistemi industriali questa città ha nel suo dna in questo momento queste potenzialità non solamente per la presenza di importanti istituti di ricerca il politecnico non solamente per la presenza dell'aerospazio che è uno degli elementi centrali nello sviluppo delle nuove tecnologie ma io credo che quando nella scorsa autunno noi abbiamo visto durante l'Italian Tech Week riunirsi a Torino le principali start up italiane e forse anche europee è stato un segnale molto forte perché sono venute qui perché hanno partecipato all'Italian Tech Week perché sono state alle OGR e hanno interagito fra loro a Torino perché la realtà vera è che c'è un'anima di Torino che in questo momento sta scommettendo sull'innovazione tecnologica questo è qualcosa che nel resto d'Italia si respira molto di meno a volte si comprende di più a volte non si comprende affatto però il punto è che se voi state costruendo oggi una start up su qualsiasi tema o argomento il posto dove venire a dire quello che voi state facendo e realizzando è Torino e guardate anche prima ne stiamo parlando con Massimo anche il successo degli ATP è stato con la realizzazione in tempo veramente estremamente breve di un palazzetto dello sport che secondo me in questo momento è il più bello che c'è in Europa testimonia questo che c'è una capacità di fare sistema sul territorio fra capacità di lavoro capacità di inventare e risorse che ci sono da un punto di vista economico locale che è un unicum nel nostro paese se a tutto questo poi obiettivamente aggiungiamo perché anche queste cose contano un esito delle ultime amministrative che ha presentato all'Italia Torino forse come la città più normale più stabile più moderata più matura diciamo nel lasciarsi alle spalle la stagione del populismo io credo che ci possono essere le premesse per essere ottimisti sul futuro di Torino sì beh non posso che confermare tutto questo in una parola dico solo e aggiungo solo che Torino deve però essere consapevole di questa forza perché io insomma sono qui da un anno e mezzo e quindi non sono un conoscitore dell'anima profonda della città anche se c'ero stato due anni in una stagione lontana a metà degli anni 90 per Repubblica passando da Repubblica alla stampa scusate però ecco quello che un pochino manca a questa città è proprio questa consapevolezza e se mi consentite anche quel pizzico di spregiudicatezza in più che serve oggi serve e che invece è esasperata per altre ragioni a Milano Milano insomma lo sappiamo adesso siamo tutti in una seria difficoltà anche Milano hanno avuto un contraccolpo pesante però ecco tutte quelle doti di pragmatismo serietà capacità di innovazione e di lavoro di cui parlava Maurizio che ancora ci sono devono precipitare nella nella capacità di individuare la nuova vocazione di questa città perché la grande fabbrica fordista non c'è più è inutile che stiamo a rimpiangerla però ci sono eccellenze formidabili sparse un po' sul territorio vanno messe a sistema e vanno trasformate nel ragione d'orgoglio di questa città che lo deve rivendicare con tutta la forza possibile e questo aspetto qui se questo piccolo tratto di strada ancora bisogna farlo ci lavoreremo lavoriamoci assieme siamo qui per questo questa è la promessa grazie anche a Elena Grazie a voi Grazie a voi Grazie 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 Grazie